Buongiorno a tutti carissimi amici di HP Bikers e benvenuti anche quest'anno ad Eikmah insieme a Dario, sua prima volta ad Eikmah. Eikmah, taglio, taglio, taglio. Eh vabbè, sì che si può dire, insomma tu sei di latina, è normale. E niente, ci vediamo all'interno, ci vediamo all'interno, vediamo un po' di novità e questo sarà il grande ritorno mio sul canale. Vabbè, vi aggiorno dopo. 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 Vi aggiorno dopo. Vabbè, vi aggiorno dopo. Siamo davanti allo stand Aprilia e io continuo a dire, non ci tocco, quando vi decidete a fare un kit di ribassamento, fare una moto che vada bene anche per le donne diversamente alte, vi prego, Aprilia, ascoltatemi così vi posso fare un test ride. Vabbè, vi aggiorno dopo. Vabbè, vi aggiorno dopo. Vabbè, vi aggiorno dopo. Siamo nel ritorno di alcune grandi case, comunque grandi assenti quest'anno, per l'anno prossimo. Allora, questa è l'anno prossimo. Vabbè, vi aggiorno. Vabbè, vi aggiorno. Vabbè, vi aggiorno dopo. Vabbè, vi aggiorno dopo. Vabbè, vi aggiorno dopo. Vabbè, vi aggiorno dopo. Vabbè, comunque, al di là di tutto è stata una bella esperienza come sempre. EICMA sta di nuovo migliorando, perché rispetto all'anno scorso veramente è stato un grande miglioramento. Novità, non ho visto niente di particolare. In realtà, la Hornet è stata piuttosto deludente, come già dicevo prima. Per il resto, è sempre il solito EICMA che merita di venire a fare un giro. Poi, logicamente, aspettiamo le altre case che non erano presenti e vedere se buttano fuori qualcosa di nuovo. Questo lo scopriremo, penso, nei prossimi giorni. Per il resto, io vi saluterei qui. Vedrai appuntamento al prossimo video, che a questo punto riprenderanno settimanalmente. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!